Sono Marcello Mereu e sono un car detailer. Ti ricordi quando eravamo bambini, quando facevamo qui quiz con quattro ruote, io ti chiedevo quanti cavalli ha la Ritmo Abarth, poi a me questa cosa delle macchine sì. No, poi tu hai mollato il colpo a causa dell'alcol. Ma che cazzo? Io invece non ho mai bevuto, perché sono sempre stato un… Un virtuoso? No, sono stato sempre un prete. Marcello, spiega nel modo più semplice possibile che cos'è esattamente il car detailing. Il car detailing è un livello molto professionale per la cura dell'auto, che sia pulizia, lucidatura, restauro della pelle, cura della pelle, un livello altissimo, quasi un'arte, se vuoi, quando tocca l'ossessione, di occuparsi dell'auto. Mi ricordo a scuola, alle medie, io mettevo i libri in borsa e mettevo anche uno o due giornali di auto. Per me era proprio un'ossessione. Il mondo della cura delle scarpe è stato sicuramente uno di quelli da cui ho attinto di più. Tutte le spazzole, i pennellini, le spazzole con le setole verticali, che nel mondo della calzatura molto ironicamente stanno scomparendo, perché quasi più nessuno usa le calzature classiche. Tipo in questo momento questa macchina per te è sporca? Ma sai, il livello delle auto in giro è molto sporco. Infatti io mi chiedo sempre, soprattutto chi mi dice «Ah, ma io sai, l'auto la lavo due volte all'anno» e io gli dico sempre «Ma in casa tua la lavi due volte all'anno?» La cosa più interessante del detailing è l'intimità che si viene a creare con l'auto, diciamo dopo i giorni che si passano con essa. Lavorando sull'estetica riusciamo quasi a catturarne l'anima. Cosa pensi di questa cosa di fare il documentario sulla tua… Ma spero innanzitutto che si faccia. Cioè interessante, diventa quasi una seduta di psicanalisi sia per me che per chi… Familiare. Familiare.